Senso di appartenenza, economia della bellezza, innovazione, formazione, resilienza sono alcune delle parole chiave emerse nella 75esima Assemblea di Confcommercio che partendo dalla convinzione che rialzarsi dopo l'emergenza implichi anche e soprattutto un cambiamento di mentalità e un potenziamento di strumenti ha ribadito il principio che tradizione e futuro devono dialogare per un'apertura produttiva al nuovo, alla creatività e alla tecnologia per attivare e potenziare il percorso di crescita degli associati. Penso che lo spirito di adattamento senza soccombere a questa resistenza che stiamo dimostrando, abbiamo dimostrato, dovrà continuare ancora per un po' di tempo purtroppo ma è sicuramente una delle chiavi per poter uscire al di là di tutti i sostegni economici e finanziari dei quali abbiamo necessità ed urgenza. Gli strumenti e le richieste del settore necessarie per uscire dalle difficoltà dell'economia sono stati illustrati dal presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli. Essere chiuse e noi continuiamo a chiedere che ci sia liquidità alle imprese attraverso gli indennizi, che ci sia una moratoria fiscale e creditizia, che ci siano gli ammortizzatori e soprattutto che si tenti anche di ricostruire un percorso di crescita utilizzando e mettendo a profitto i fondi che sono anche ingenti da parte dell'Europa. E mettere a frutto vuol dire tenere insieme investimenti e riforme non solo nell'interesse del paese ma soprattutto nell'interesse delle generazioni più giovani. In chiusura la premiazione di quattro aziende del territorio, due protagoniste del progetto Fiducia, una premiata per la capace applicazione del principio di economia della bellezza, una distinta per l'abilità nel processo di innovazione.